Ciao a tutti, sono Delli e adesso farò la reaccia negli UNB Feeling tra 3, 2, 1 Che a mio punto è stata chiesto anche questo nei commenti E io non ho i sottotitoli No, vi prego Dopo me lo riguardo con i sottotitoli comunque Oddio No, vi prego Ho l'ansia, oddio Fa sfastire BTS, tipo teorie No, vi prego Oddio Adoro però C'è le voci con la musica, con i gifetti, oddio Oh mio dio Questo deve essere il loro dubiuto, io ho visto prima l'altro, vabbè ho sbagliato Oddio, oddio, oddio no No, no, no Oh mio dio Eh, partiamo con Chan Come ho detto nel video di prima, conosco solo Chan e Eugene Però non mi ricordavo che c'è anche Ansel Però non so se lo riconosco proprio E poi c'è un certo Marco che io non so chi sia Però mi fa ridere il nome perché è un nome italiano e un po' mi fa strano Eh, ecco lui è Ansel Ok, questa è diversissima dall'altra Però all'inizio, col pianoforte, l'ho amato Oh mio dio Oddio Uh, mi piace però la canzone Questa parte è bellissima col prato così Wow Che figata Oddio Questi due Oh Strabella sta parte Dei loro due E a me appunto Mi sa che nell'altro video mi è piaciuto molto L'altro Quello che ha Arrequato prima di lui Oh mio Oh mio dio Ciao Chi sei tu La base strabella What? Ovviamente l'unica cosa scritta è in Francese Ma perché? No basta Mi prego Queste cose Ah ma non ci sei in francese Oddio scusate Che figata che lo dice in francese Oh mio dio Oddio che figata C'è un membro che sa parlare francese per caso? Questo video è una figata allucinante comunque Molto diverso dall'altro Però è bello che abbiamo fatto due video Completamente Oddio 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 So così felice Per lui Giuro Oh mio dio La tua voce Sono felicissima per Anza Giuro Che figata allucinante Bella la canzone Giuro Questa parte Questa parte è giù Non lo so Mi piace Mi piace Mi è andata sotto Mi piace tantissimo Quella parte col cerchio Wait Stavo indossando delle bretelle Per caso Perché con me Non andiamo d'accordo Oh Che carini Oh mio dio Questi outfit Adoro Sia quali bianchi Che gli altri Però gli altri proprio Oh mio dio Oh mio dio Anza E allora Abbiamo finito Con questi sguardi Ancora Basta Che figata I colori Mi ha dettito Che figata Giuro Adoro Comunque bravissimi Sono molto orgogliosa Allora Appunto Non li conosco tutti Però sono felice Che abbiano comunque Debuttato E penso che comunque Sia davvero Molto bella questa canzone Come appunto Quella di prima Che ho visto Che era Only One E niente Mi è piaciuto molto tutto Sia il video Che appunto La canzone La base Tutto Il ballo Il ballo Soprattutto anche all'inizio Mi è piaciuto tantissimo Quindi niente In caso Scrivete nei commenti Cosa ne pensate Ci vediamo alla prossima reaction Ciao ciao